Ok, piano, piano, piano Mettilo così E fallo cadere, ok Sono la gente in capi e benvenuti su un nuovo video VR Finalmente direi Sto usando un nuovo casco e dei nuovi controller che si chiamano il Valve Index Che ci permetteranno di fare delle cose mai viste C'ho le mani, c'ho le braccio, è assurdo, si Allora, guardate cosa possiamo fare, possiamo indicare, possiamo... No, non possiamo fare quelle cose Tutte le mie dita sono traccate È una roba assurda ragazzi No ragazzi, la mia altezza, no, sono un nano Questo gioco dovrebbe avere anche una storia Siamo questo tizio Wow, questo è il menu, guardate, posso andare in giro Posso anche abbassarmi Aiuto, ma sono un nano Guarda, è stupendo, raccogliere le scatole Pizza time Pizza time, scimietta Scimietta Che sai tu? Sei un cam... È una scimietta Scimietta Pizza time Nuovo gioco, iniziamo Sono... I'm ready Questo foglietto mi ha appena detto che è diventato senziente Ha detto di non buttarlo nell'inceneritore perché è vivo Lo dice qua ragazzi C'è scritto, c'è scritto Io lo butto nell'inceneritore Ehi 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 Cacchio Forse devo chiudere la valvola, giusto? Tranquilli, ci penso io Ok, ora è molto meglio Ora mi abbasso Perfetto E andiamo avanti Ma cosa sto posto? Guardate Ci sono delle gambe che stanno correndo Quello sono io Cioè vuol dire che ho questi tre movimenti Vedete posso abbassarmi anch'io Posso mettermi a metà Posso scegliere proprio Regolarmi Se stare in piedi Ho abbassato Aiuto Vai, 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 vai Ok, si salta E ora Oh, limbo Oh, yeah Ora possiamo andare avanti E correre per di qua Fare un po' di parkour Wow È incredibile ragazzi Non ho mai fatto così tanto Esercizio fisico in vita mia Dovrei farlo più spesso Sembra un mirror's edge Ora praticamente Ci stanno insegnando A muoverci In questo mondo Mi sono quasi spettato le gambe Ok, ok Aiuto Mi sto portando È assurdo Ora mollo Bellissimo Cioè si possono fare un sacco di robe Guarda Mamma mia Signore È assurdo Guarda Oh 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 Che potenza È bellissimo Come spacchi tutto Mamma mia Tutta la mia rabbia represa Via Legna 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 per questo inverno Ragazzi Avete bisogno di legna L'altro gabbiano Ce l'ha Mi sono quasi tagliato la mano Ragazzi Ci hanno dato delle armi Questa la metto qua dietro Ok L'ho presa Mi prendo anche una pistola Ragazzi È tempo di provare un po' queste armi Facciamo così Ok Ok Guarda c'è pure lo slow motion Che figo La tiro in aria La prendo al volo Ho sentito che si può caricare la pistola al volo Quindi No Oh l'ho presa L'ho presa Ciao ragazzi Ciao ragazzi Gabby in cucina è arrivato Guardate No la fisica è stupenda Guardate Ho trovato Una spada di gomma C'è praticamente questo caffè Con tutto pieno di regali Con i caschi È bellissimo Posso metterlo in testa Oh sì Oh ma già Oh se mi metto questo VR dentro il VR Oh ma già ragazzi Sono dentro il VR In un altro mondo VR Lool Alcuno vuole mangiare qui Ho preparato delle sedie Questo è per te iscritto Iscritto vieni Vuoi da bere Desideri un po' di caffè Mio giovane iscritto È qua È qua Ecco C'è ancora una barretta Posso mangiare Oh 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 Voglio questo No Mi porto Questo hamburger Me lo prendo Per dopo Ragazzi Ho fatto bruttissimo errore Stavo per andare in giro Nel museo Quando Per sbaglio Ho visto una stanzina L'ha un buco Sì Mi ci sono buttato dentro Perché Perché ragazzi Perché Sono andato qui Perché Sappiamo che non avrei dovuto Ehi tu Questo chi è Ehi tutto bene Che Oh Ragazzi Qualcuno ha perso un cadav Oh no È pieno qua Ragazzi Credete che devo andare per di qua C'è una freccetta Che mi dice di andare Proviamo ragazzi Proviamo Ehi Tu Sì Parlo con te Oh 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 Piano come queste viglie Allora Che succede Non entrare qui Dici eh Senti Dov'è il mio coso Avevo un coso Avevo un coso io Questo è un mattone Userò questo mattone Ok Ok Ehi Oh oh Ehi Stammi lontano Non costringermi Non costringermi Non costringermi Ti ho detto Ok Allora prendi questo E questo Oh Stammi lontano Ti ho detto Stammi lontano Ti ho detto Stammi lontano Ehi Ehi Piero Mi è costretto Mi è costretto Ma chi sono Ti tizi Chi sono Sporcato il muro di sangue Santo cielo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Chi sei Chi sei Chi sei Chi ti manda qui Uh ragazzi Ho trovato un martello Ok possiamo aprire Ampriti Ampriti Dai Dai ancora un po' Uh 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 C'è una via d'uscita ragazzi C'è una via d'uscita Ah Ok 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 Ora spacchiamo il lucchetto Se ce la facciamo Aspetta Ok 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 Wow Oh signore Oh canestro Allora là c'è una torretta Che se mi vede Mi spara Devo andare per il tipo Vero Ok Ora metterò un bidone E una userò per difendermi Ok Userò questo Non puoi farmi del male Sì Ho funzionato E ora la rompo Aspettate Ecco Ah Oh Oh Si è disattivata No si può hackerare Se premo qui Ok Uh Ecco si spara A mano Ok Questo è il pulsante Per sparare Ah va a cagare Dai Potrei usarla contro dei nemici Effettivamente Guarda qua Questo stupido No Là non ci vado Per ora vado qua Credo di no Oh Ehi 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 Piano Che cavolo Ah Ah Non mi fai del male Non mi fai del male Vero I regni No Qui Qui c'è magari qualcosa Un'arma Eh Uh Un attimo che vado a sistemare un problema Nessun testimone In qualche modo In qualche modo sono uscito di qui Oh Finalmente Siamo di nuovo dentro il museo Finalmente Posso tornare Mai più sta città Mai più Mai Oh no Devo far scendere sta roba Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Abbiamo creato uno shortcut Stiamo creando un sacco di shortcut Molto belli Ora possiamo aprire le porte delle città Cosa che non vorrei fare Ma mi sa che devo E' bello pesante sto martello Devo usarlo per Aprire le porte della città In modo che se mi perdo Posso tornare indietro E via Mamma mia E' faticoso Più il tempo passa Più giocare ai videogiochi Sta diventando faticoso Ok Ok Posso andarmene di qui Che cavolo Il mondo Si sta corrompendo Non so Ragazzi Davvero Potrei usare la scala Ok Ancora un poco Ah Ho sbloccato una rampa Quindi è qui Che vanno le persone Quando muoiono Quindi vedete È un gioco Basato sulla fisica Oh Oh No 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 Non voglio andar lì sotto Oh cavolo No Meglio non andare lì Per nessun motivo Oh Oh No Oh no Oh no Ancora Basta Ciao Ciao Sì Posso aprire qua Forse è meglio che sto fucile viene con me Devo andare alla torre Hanno detto Andiamo Questa volta almeno posso difendermi Oi Oi Ok Ok Non devo fare la loro stessa fine Assolutamente no Attenzione Look out Look out Non andare nella strada Ok Io non vado nella strada Vanno nel marciapiede Da questa parte dicono Ok Andiamo qua Ok ok Non andare per strada Non andare per strada Andiamo qua Andiamo qua Ok 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 Fermi Ho detto fermi Fermi Non costringetemi Ok Basta un colpo alla testa e muoiono Ok Credo che devo trovare la chiave Da questa parte i miloni sono qui Ah I meloni sono lì Non voglio i meloni Non ora Qua ci sono i meloni Qua Qua ci sono i meloni Eccolo qua Sì i meloni 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 I meloni c'erano Non hanno mentito E c'è anche un bellissimo tubo Ok Eliminato subito Oh hanno Hanno delle armi quelli Oh cavolo Oh cavolo Oh cavolo Userò un melone È la mia unica arma Ho un melone Non ho paura di usarlo Fermo Non si è accorto Non si è accorto Il melone l'ha distratto Oh 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 Fermo È morto Sì Viva i meloni Ok Piano 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 Mettilo così E fallo cadere Ok Ah Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Vittoria Cacchio Sarà alto Matti il 5 Porta Grazie Questa città è veramente Infinita Voglio solo andarmene Ce l'ho fatta Ragazzi Ho saputo una cosa però Per questo episodio Mi fermo qua Sono esausto Sono stanco È un gioco assurdo È stranissimo Ma uno dei più belli Che ho visto sul VR Per la fisica E per la fantasia E va per oggi Concludo qua Fatemi sapere le vostre opinioni Anche perché sono Stanchissimo Noi ci vediamo Ai prossimi episodi Del prossimo video Ciao ragazzi